Giovanni Scalia, amministratore delegato a GESAT. Un'occasione oggi per parlare degli investimenti dell'aeroporto, oltre 70 milioni di euro nel prossimo triennio per creare un aeroporto con più servizi, più tecnologie e una miglior customer experience per i passeggeri. Stiamo rivedendo integralmente il nostro terminal e faremo tutta una serie di investimenti su nuovi business come il cargo, l'aviezione generale, o piuttosto per far usufruire delle bellezze della posizione del nostro territorio ai nostri passeggeri. Nello specifico riqualificheremo a verde tutta un'area del parco a mare e faremo un ponte che sarà un elemento distintivo dell'aeroporto stesso. Tutto ciò in una ricerca di un aeroporto che diventa sempre più un hub di sviluppo e innovazione per il territorio e che in questo senso crea aggregazione rispetto agli operatori circostanti e crea sviluppo economico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.